Bentornati su MyFootballGersey. Rivediamo questa maglia che avevamo già visto in versione fan, trovate qui in alto la recensione. Questa è la terza maglia del Milan in versione player. Grazie a tutti. La maglia non è niente male, colori veramente particolari e bellissima la qualità. Fate attenzione perché come ho spesso notato in passato la versione player di Puma è veramente molto stretta. Questa è una L e devo dire la verità a me va un po' strettina. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinar la maglia. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo che vedevate prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, è un piccolissimo gesto, ma ci aiuta a farvi vedere recensioni come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto un po' strettina.